Pronto? Vai! Augusto Gesso, CrossFit Imperia, RX, Terzo World, Battaglia di Milano 2016 Ok La barra Vai, Ago, eh? Tranquillo Segui i miei comandi, eh? Iniziali, poi se spingi, spingi di più Via Uno Più Anka, eh? Due Tre Quattro Ottimo Giù Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Ancora una Nove Nove Dieci Undici E dodici Aspetta il mio comando adesso Scendi subito, scendi subito, non star lì Pronto? Cinque Quattro Quattro Tre Due Uno Via ritmo e respira, quattro, cinque, sei, bravissimo, ancora due, sette, siamo in anticipo di un minuto adesso, vai, otto, via, parti su, vai, vai, salta subito a step up, uno, respira quando scendi, via, due, vai, non mollare un cazzo, vai, tre, bravissimo, subito, quattro, dai che sei in 40 secondi in anticipo, su, cinque, sei, ancora sei, agu, sette, piano, tranquillo, vai, concentrato, otto, non mollare, non mollare, tranquillo, dai, nove, ancora tre, dieci, ancora due, undici, ultima, e dodici, aspetta mio via, attaccate alla sbarra, pronto, tre, due, uno, via, dai che facciamo tre round, su, non mollare un cazzo, uno, due, ancora due, tre, più Anka, quattro, bravissimo, via, subito coi Barbies, stai andando bene Agu, tringi i denti, vai giù, dai, uno, così, grande, stai andando benissimo, forza, due, tre, quattro, 5, 6, 7, e 8, via, salta subito sul box, subito, cattivo, uno, scendi giù al passo, concentrato quando salti, due, tre, non mollare un cazzo, eh, quattro, forza, ancora otto, 5, 6, non mollare, 7, ultime 5, spingi più di gambe, 8, ultime 4, bravissimo, ultime 3, ultime 2, veloce, ancora, via, ok, aspetta mio via, siamo fuori, ma non ti preoccupare, 4, 3, 2, 1, via, Lavora di Anka, Agu, 1, 2, 3, e 4, giù, via coi Barbies, quarto round, stai andando bene, bene, 1, 2, 3, 4, 5, ultime 3, 6, 7, e 8, salta subito che finiamo il quarto round, su, concentrato, 1, 2, concentrato, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultime 2, veloce, ultima, via, attaccati subito, forza che finiamo il quinto round, 1, 2, 3, ultima, Anka, 4, giù subito, parti parti, buttati, buttati, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, dai, 7, un minuto ora, ultima, e 8, adesso sul box jump veloce, 4 bar master up, forza, 1, 2, 2, ce la fai eh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 9, ultimi 3, 10, ultime 2, 11, veloce, attaccati, veloce, 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 dai, metti il turbo, 1, 2, dai, 3, ancora una, 2, 1, 4, no, peccato, grazie, bravo, grazie, bravo, grazie.